Musica Dopo l'esibizione degli atleti cinesi al Teatro Politeama con lo spettacolo Kung Fu Heroes abbiamo compiuto un viaggio all'interno delle principali palestre pratesi dove viene praticata l'antica disciplina marziale del Kung Fu nata mille anni fa in Cina. Le arti marziali sono molto praticate a Prato, soprattutto il Kung Fu, disciplina fondata in Cina e adottata da tanti atleti cittadini. Dopo il recente successo dello spettacolo Kung Fu Heroes al Politeama è cresciuto l'interesse per il Kung Fu nella sua versione acrobatica e agonistica. A Prato esistono alcune scuole specificatamente dedicate alle arti marziali, in particolare al Kung Fu. Siamo andati a visitare le palestre più importanti in questo campo. La palestra Shiro Saigo ha la sede principale in Viale Marconi ed un altro punto di riferimento per il Kung Fu. I 35 anni questa scuola che inizialmente è nata come Judo, poi si è allargata con tante altre discipline. Noi abbiamo fatto nascere a Prato quasi tutte le discipline più moderne. I corsi di Kung Fu sono estremamente frequentati e richiamano molti atleti. La nostra scuola nel 2004 si è classificata a seconda ai campionati mondiali di Taiwan. Quasi tutti gli anni partecipiamo a un torneo che è la World Cup Perugia. È una gara a livello internazionale. I ragazzi due anni fa si sono classificati primi e anche secondi in diverse discipline.